Parte finalmente il cantiere per il restyling di Piazza Regina Margherita e di Largo Tunisia, un intervento finanziato interamente dalla Fondazione Carispac. Il progetto di riqualificazione di entrambi gli spazi urbani è stato donato alla Fondazione Studio di Ingegneria e Architettura, due studio, dagli ingegneri Francesco Giancole e Alessia Rossi, che cureranno anche la direzione dei lavori, mentre il progetto di restauro della facciata della Fontana del Nettuno è stato redatto e messo a disposizione dalla soprintendenza. L'Aggiunta Comunale dell'Aquila a metà ottobre aveva approvato la variazione al progetto, che oltre al restauro prevede la ricollocazione dell'antica fontanella in ghisa, l'ampliamento dell'area verde che insiste sulla piazza, la pavimentazione di via De Sale e via Castello, il restauro della Fontana del Nettuno e anche la riqualificazione di Largo Tunisia. Per quel che riguarda i lavori, il prato di Piazza Regina Margherita recintato e che occlude la piazza verrà aperto e scomposto per consentire il transito dei pedoni e la vista sui palazzi e sul tritone. Il progetto di riqualificazione di Largo Tunisia propone, con il medesimo linguaggio, una sistemazione dell'aiuola centrale con una seduta continua. Questo è un altro intervento importante che completa la serie di interventi che noi abbiamo voluto realizzare con una certa velocità per ridare all'Aquila la possibilità di avere degli spazi fruibili. È una realtà importante intorno al castello e manco a farla apposta intorno alla fondazione, al palazzo della fondazione, quindi Largo Tunisia e Piazza Margherita che con l'inizio dei lavori restituiranno all'Aquila gli spazi che gli competono. Quindi l'Aquila va velocemente verso una rivisitazione delle realtà precedenti, ma che vengono aggiornate, riviste e anche ammodernate in alcuni tratti. Ma non mancano le polemiche perché il cantiere di fatto lascia solo un piccolo passaggio pedonale per le attività della zona che avrebbero sperato a Piazza Regina Margherita in un Natale diverso senza questi disagi. Peraltro già c'erano state delle polemiche per non chiudere in estate da parte degli esercenti.